Saranno giorni torridi nella Piana del Sele e nella città di Battipaglia con il termometro che salirà sopra la media stagionale con un caldo anomalo. Ad annunciare sul sito dell'ente comunale l'allerta meteo per un'ondata di calore e la protezione civile. Nel bollettino ufficiale si legge, prevista allerta meteo per un'ondata di calore da oggi fino a sabato 1 agosto 2020. La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per ondate di calore. Per una durata di 72 ore potranno verificarsi condizioni di criticità ed ancora mettono in evidenza. Con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 5-7 gradi associate ad un tasso di umidità che potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione. Insomma saranno giornate da bollino rosso in tutti i sensi, specie per persone anziane e bambini. Gli esperti consigliano ai cittadini della Piana del Sele e quindi anche ai battipagliesi di uscire il minimo indispensabile e di bere molta acqua. Inoltre il fatto di dover indossare la mascherina nei luoghi chiusi di certo non aiuta chi ha già problemi respiratori che con questa ondata anomala di calore renderà difficile anche spostarsi solo per la spesa. Il Comune di Battipaglia ha subito diffuso la nota stampa della protezione civile per avvisare la cittadinanza di questo caldo torrito che fino a sabato avvolgerà la Piana del Sele e la città battipagliese.